IET, innovazione, energie e tecnoambienti. 40 anni fa parte dall'idea dei Fratelli Tenaglia, fondano l'azienda, si occupavano di impianti elettrici e telefonici. 15 anni fa entriamo io e mia sorella in azienda, prendiamo le retini dell'azienda e sviluppiamo i settori delle energie rinnovabili e dei sistemi di sicurezza e domotica. Ci occupiamo della consulenza, della progettazione e del realizzo degli impianti, rivolti sempre al risparmio di energia, taglio dei consumi di gas e di luce, con applicazione di tecnologie ad alta efficienza energetica e con impianti energie rinnovabili. Siamo specializzati quindi nell'istrazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaia condensazione, caldaia biomasse, anche sistemi di domotica e sistemi di sicurezza per la casa. Quindi il nostro core business, la nostra passione più grande è far risparmiare alle persone sulle bollette, addirittura arrivare a soluzioni di indipendenza energetica, azzerando le bollette, e soluzioni che mettono in sicurezza le famiglie. Oltre al cliente residenziale, quindi alle famiglie, ci rivolgiamo anche ad aziende, enti e perché no anche liberi professionisti. Ci possiamo occupare anche di tutta quanta la trasmissione dati, rame, fibra ottica e telefonia. Gli attivi calcinelli e opera nelle province di Pesaro Urbino, di Riccione Rimini e di Ancona. Con la nostra esperienza e la nostra consulenza mettiamo a disposizione una serie di scelte, in modo tale che guidiamo il cliente a fare le giuste e appropriate valutazioni. Abbiamo un centro assistenza diretto all'interno dell'azienda. La nostra struttura si compone di circa 15 persone, 6 delle quali sono tecnici e 4 delle quali invece si occupano solo di seguire il cliente. Quindi puntiamo tantissimo l'assistenza, rispondiamo al nostro centralino entro 60 secondi, abbiamo una persona dedicata a fare questo. Le urgenze le gestiamo in maniera diretta, sabato e domenica, 365 giorni all'anno, festività comprese. Abbiamo fatto una scelta green principalmente spinti da un senso etico, dalla volontà di tagliare l'inquinamento, la volontà di una piccola azienda di dover dare una svolta, un segno. Un risparmio di CO2 è importantissimo, se si pensi che un chilo watt di fotovoltaico fa risparmiare mezzo chilo di CO2 immesso in atmosfera. Altra cosa importantissima è comunque il taglio dei costi, cioè dobbiamo diventare indipendenti. IET si occupa anche di tutta la parte burocratica, quindi il cliente che viene da noi lo guidiamo nella giusta scelta e soprattutto gli seguiamo tutta la pratica per le trazioni fiscali e incentivi a fondo perduto, per esempio che adesso è stato metto a disposizione con il conto termico 2.0, quindi non deve preoccuparsi di nulla, questa è una nostra responsabilità. obiettivo impianti efficienti, edificio in sicurezza, chiave in mano, pensieri zero, risposta a IET. STREET